Ciao, come immagino tutti saprete, da quest'anno sono banditi i cotton fioc o bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale plastico. L'anno scorso ho letto una ricerca di lega ambiente che mi ha fatto veramente acapponare la pelle. Sostanzialmente nella top ten dei rifiuti più presenti sulle spiagge italiane i bastoncini per le orecchie erano al terzo posto. Ne hanno trovato più o meno uno ogni due metri, se ci pensate veramente tantissimo, considerando poi che i tempi di degradazione della plastica sono lunghissimi, quasi vicino all'eternità. Per fortuna ci sono molte aziende lungimiranti che da tanto tempo producono dei prodotti alternativi. Una di queste è Cura Natura, abbiamo diversi prodotti nello shop, la marca Cura Natura ne arriveranno altri, intanto vi faccio vedere questi. Sono appunto di bastoncini per le orecchie in cotone e bambù al 100% degradabili, questo ovviamente non vi autorizza comunque a lanciarli a caso nell'ambiente, mi raccomando, ma compostateli. La confezione è da 100, si presenta così, anche la confezione è in carta riciclata. Sono comunque estremamente comodi perché noi donne sappiamo che servono anche per il trucco e hanno tantissime altre altre funzioni. La confezione è da 100, costa 3 euro e 25, vi lascio il link nell'info box.